l'angelo del signore portò l'annunzio a maria ed è la concepì per opera dello spirito santo ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen eccomi sono la serva del signore si compie in me la tua parola ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen e il verbo si fece carne e bene ad abitare in mezzo a noi ave o maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen prega per noi santa madre di dio affinché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia o padre tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio per la sua passione la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore amen gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli amen preghiamo ora con la supplica alla madonna di siponto o maria piena di grazia madre di dio e della chiesa generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a te con il titolo di vergine santissima di siponto guarda a noi tuoi figli in questo tempo di preoccupazione di sofferenza per il contagio che alimenta la paura ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen tu che sei uscita dalla tua casa per essere vicina ad elisabetta soccorrici nella nostra fragilità visita i malati illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal figlio tuo gesù cristo la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen madonna santissima di siponto veglia sul tuo popolo donna sapienza ai governanti agli amministratori perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità sostieni chi si spende per i bisognosi i volontari infermieri i medici che sono in prima linea nel curare i malati anche a costo della propria incolumità ottienici dal signore la benedizione della chiesa a partire dai suoi ministri rendila segno strumento della tua luce e della tua bontà ave o maria piena di grazia il signore con te tu sei benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso è nell'ora della nostra morte amen o maria consapevoli dei nostri peccati ci affidiamo a te madre di misericordia accresci la nostra fede accompagna le famiglie rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli preserva gli anziani dalla solitudine fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento intercedi per i poveri o vergine santissima di siponto accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza amen salve regina madre di misericordia vita dolcezza speranza nostra salve a te ricorriamo esuli figli di eva a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime orso dunque avvocata nostra rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio gesù il frutto benedetto del tuo seno o clemente o pia o dolce vergine maria il signore sia con voi e con il tuo spirito vi benedica dio onnipotente padre e figlio e spirito santo amen nel nome del signore andiamo in pace rendiamo grazie a dio